Domenica 18 e lunedì 19, Rai 1 manderà in onda, in prima serata, Il sogno del maratoneta, una miniserie televisiva firmata da Leone Pompucci e liberamente ispirata al libro di Giuseppe Federali, Il sogno del maratoneta, il romanzo di Dorando Pietri, edito da Gerzanti. Nel cast di questa coproduzione, Rai Fiction e Casanova Multimedia, prodotto da Luca Barbareschi, in sostegno della Film Commission Torino-Piemonte, ci sono Luigi Locascio, Laura Chiatti, Alessandro Haver, Diana Arancione. La storia è quella di Dorando Pietri, il maratoneta che voleva vincere nella vita in sport e che invece fu truffato dal destino. Divenne famoso per la mancata vittoria olimpica, la squalifica nel 1908 alle Empiei di Londra, dopo aver corso fino allo sfinimento, si vide poi privare ingiustamente del titolo che tanto gli costò. La giustificazione per questa cattivazione fu che uno dei giudici l'avesse sorretto, quando stremato e confuso stava per perdere l'orientamento sbagliando strada. It happens everywhere!